Non è l'assassino di Roberta, la requisitoria della procura al processo per il delitto Lanzino. Il DNA scagiona Franco Sansone, per il quale viene chiesta la corte d'assise di Cosenza, la condanna all'ergastolo, ma solo per l'omicidio di Luigi Carbone. Multopoli, così funzionava il sistema, la ricostruzione dell'apparato secondo il PM Gerardo Dominiani, al centro il tenente colonnello Tarantino, secondo l'accusa, tra coloro i quali si sarebbero rivolti a lui per farsi levare le contravvenzioni, anche il consigliere regionale Tallini. Cittadini uniti contro il crimine, il monito lanciato dal procuratore Vincenzo Antonio Lombardo alla luce dell'escalation criminale che spaventa Catanzaro. Il magistrato ribadisce la presenza dello Stato, intanto i carabinieri arrestano il presunto autore di uno spavaldo tentativo di rapina. Incidenti stradali, numeri impressionanti, un rosario di sinistri letali sulle strade italiane, la situazione allarmante anche in Calabria, due le tragedie che si sono consumate nell'ultima settimana, una nel Vibonese e l'altra nel Cosentino, a perdere la vita sono quasi sempre giovanissimi. Comunali si definiscono le alleanze, verso le amministrative a Vivo Valencia Nero Su Bianco l'accordo tra Helio Costa e Forza Italia, che rinuncia al simbolo e a candidare gli assessori uscenti. Alla Mezzia Fratelli d'Italia scarica Chirumbolo, domani Mascaro presenta la sua coalizione. Buon pomeriggio e bentrovati dalla Cina. Apertura del nostro telegiornale, la requisitoria della procura stamani al processo per l'omicidio di Roberta Lanzino ha prodato alle fasi conclusive davanti alla Corte d'Assise di Cosenza. Il DNA di fatto scaggiona Franco Sansone, per il quale viene chiesta l'assoluzione. E allo stesso Sansone viene però contestato un altro omicidio, quello di Luigi Carbone e solo per questo l'accusa ha chiesto l'ergastolo. In collegamento telefonico con noi, Elvira Madrigrano da Cosenza. La procura ha chiesto l'assoluzione piena di Franco Sansone, l'unico imputato nel processo per l'omicidio di Roberta Lanzino, la studentessa di Rende, violentata e uccisa il 26 luglio del 1988. Il PM ha spiegato durante la requisitoria che la forza approbatoria della prova regina, ovvero la non compatibilità con il DNA estrapolato dal liquido seminale prelevato dal terriccio sotto il corpo di Roberta, è tale da non poter essere confutata. Per questo la richiesta di assoluzione è per non aver commesso il fatto. Franco Sansone è anche imputato per l'omicidio di Luigi Carbone, il pastore di Cerisano, vittima di Lupara Bianca. Per questo delitto l'accusa ha chiesto l'ergastolo. Per la morte di Carbone sono imputati anche Alfredo Sansone e il figlio Remo, rispettivamente padre e fratello di Franco. Anche per Alfredo è stato chiesto l'ergastolo, mentre l'assoluzione è per Remo, perché non ci sono elementi certi. Ringraziamo Elvira Madregrano in collegamento da Cosenza per noi. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. Torniamo sull'inchiesta della procura di Catanzaro, denominata Palazzo degli Ignobili, che travolge il comune di Catanzaro. Il sistema, secondo l'accusa, ruotava attorno al tenente Colonnello Tarantino, a cui si sarebbe rivolto anche il consigliere regionale Tallini, per farsi togliere delle multe. Per noi Gabriella Passariello. Politici, amministratori, amici, si sarebbero rivolti al Colonnello, perché lui sapeva chi contattare per annullare un verbale di contravvenzione, anche se una macchina o una moto, venivano parcheggiate in divieto di sosta, o nell'area dedicata ai taxi, o in zona rimozione automezzi. Non c'era nulla che Salvatore Tarantino non potesse fare. Lo si evince nell'ordinanza firmata dal GIP del Tribunale del Capoluogo, Ilaria Tarantino, dove emergono le singole ipotesi di accusa, a carico dei 40 indagati, finiti nella più vasta inchiesta, denominata Palazzo degli Ignobili, aperta dal sostituto procuratore della Repubblica, Gerardo Dominiani, che più di un anno fa, aveva svelato con una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali, un sistema clientelare che tocca ogni settore della pubblica amministrazione. Tarantino, in concorso con il Capo della Polizia Municipale, Giuseppe Antonio Salerno, avrebbe annullato i verbali di contravvenzione, in occasione della firma di una convenzione con altre amministrazioni comunali, o per dare una mano al Consigliere Comunale, Carlo Nisticò, o per favorire altri eletti politici compresi. Un esempio fra tutti, Tarantino avrebbe indotto il vigile urbano, Luigi Sacco, a non dare seguito o ad annullare indebitamente, senza alcuna motivazione, la multa di 41 euro a Salvatore Maida, che si sarebbe rivolto al colonnello procurandogli un ingiusto vantaggio patrimoniale. Ma anche Domenico Tallini avrebbe stigato Tarantino, per farsi elevare una multa, facendo attestare falsamente dal vigile urbano Raimondo, che si era trattata di una sosta breve per andare in farmacia. E in altre due occasioni, lo stesso Tallini si sarebbe rivolto al tenente colonnello, per farsi annullare una multa, per aver parcheggiato in zona rimozione, o per aver messo l'auto nell'area riservata ai taxi. E ancora cronaca, tragedia a Castrovillari, dove un cinquantenne, affetto da problemi psichici, ha strangolato il padre ottantenne. Il figlio, costretto a ricorrere alle cure dell'ospedale, è stato interrogato dai carabinieri, e stamani ha confessato tutto. Lo avrebbe ucciso al termine di un diverbio, l'ennesimo, forse una richiesta di soldi negata, e poi ha tentato il suicidio tagliandosi le vene. Un intento che non gli è riuscito, così stamattina, con i polsi sanguinanti, ha deciso di recarsi in ospedale, per farsi medicare le ferite. Poi ha chiesto in prestito un cellulare, e ha chiamato il 112, per confessare l'omicidio del padre Carmine, di ottant'anni. In manette, con l'accusa di parricidio, è finito Franco Saraceno, un 53enne di Castrovillari, con problemi psichici. Quando i carabinieri della compagnia di Castrovillari, hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo, hanno trovato il cadavere dell'anziano padre. L'omicida, in passato, aveva già tentato il suicidio, in un'occasione anche gettandosi dal balcone di casa, che condivideva con il padre. Franco Saraceno, attualmente in stato di fermo, percepiva una pensione di invalidità. Da anni, era in cura nel centro di igiene mentale di Castrovillari. Alla base dell'omicidio, che si è consumato presumibilmente ieri sera, ci sarebbero i dissidi tra padre e figlio per le continue richieste di denaro che Franco Saraceno rivolgeva all'anziano genitore. E mentre Catanzaro resta alto, l'allarme criminalità, le forze dell'ordine reagiscono. I carabinieri, in particolare, hanno arrestato uno dei presunti protagonisti dello spavaldo tentativo di rapina che si è consumato in una pizzeria molto nota nel capoluogo di Regione. I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa e per noi c'era Gabriella Passariello. Nel giro di 20 giorni, i carabinieri della compagnia di Catanzaro hanno arrestato uno degli autori della tentata rapina compiuta nel capoluogo la sera del 21 marzo scorso da due persone armate di pistola in piazza prefettura in pieno centro storico ai danni della pizzeria Chiricò. Si tratta di Alexander Blisko, 27 anni di nazionalità ucraina, mentre l'altro presunto responsabile di nazionalità bielorussa e latitante. I particolari dell'arresto, eseguito in esecuzione di un'ordinanza richiesta dal sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Russo, e firmata dal GIP del Tribunale del Capoluogo Assunta Magliore, sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa stamattina dal procuratore capo Vincenzo Antonio Lombardo, dal tenente colonnello Alceo Greco, dal comandante della compagnia di Catanzaro, Marco Fragrassi, e dal collega Pietro Patrizio Bruno. Agli autori della tentata rapina, i militari dell'arma che hanno svolto le indagini sono arrivati grazie ai riconoscimenti effettuati dalla vittima e di alcuni testimoni, che hanno fornito un identikit dei malviventi, mentre la pistola utilizzata per fare eruzione nell'esercizio commerciale al momento non è reperibile. Una risposta immediata da parte della Procura e delle Forze dell'Ordine, ha detto il procuratore capo, che a stretto giro sono arrivati a risolvere il caso. Una città risarcita nella sua ferita, a detta del tenente colonnello Alceo, segno che quando la cittadinanza si rivolge ai carabinieri, noi diamo risposte immediate. Una conferenza stampa, che è stata anche l'occasione per ribadire che l'attenzione sulla città rimane alta ed è assicurata, senza inutili allarmismi per gli eventi delittuosi che in queste ultime due settimane hanno devastato la città. E l'arresto effettuato dai carabinieri a Catanzaro si traduce, come dicevamo, in un segnale importante che testimone la presenza dello Stato in una realtà in cui cresce l'allarme criminalità e diminuisce la percezione della sicurezza. Un fatto che è stato evidenziato a margine della conferenza stampa dal procuratore della Repubblica, Vincenzo Antonio Lombardo. L'allarme va percepito nei suoi esatti termini, nelle sue esatte dimensioni. La mia sensazione è che la percezione sia gli episodi delittuosi abbiano dato luogo ad una percezione di insicurezza che probabilmente supera il giusto livello. E allora io vorrei assicurare la cittadinanza di Catanzaro che questa città dispone di forze di polizia giudiziaria ma nel complesso di forze anche dislocate sul territorio che sono in grado di garantire sicurezza e tranquillità ed ordinato vivere civile. Accanto all'azione della magistratura e degli apparati sia della stessa procura che dei servizi territoriali sulla città e attraverso l'azione di prevenzione che sicuramente il prefetto di Catanzaro ha messo in atto con il comitato di sicurezza di cui si è avuta notizia attraverso gli organi di stampa direi che bisogna passare da una percezione di insicurezza ad una sensazione di attenzione sul problema della sicurezza da qui la mia presenza oggi per dimostrare che una cosa è importante è importante capire che questi problemi non riguardano solo le vittime dei reati ma riguardano tutta la cittadinanza che deve tenersi unita Voltiamo pagina all'arrivo degli ultimi 650 migranti sulle coste regine ha creato non pochi problemi organizzativi le associazioni si sono mobilitate per dare accoglienza ma lamentano poca attenzione da parte delle istituzioni competenti da Reggio Calabria Giuseppe Meduri Salice è un quartiere periferico a nord di Reggio Calabria qui opera l'associazione Nuova Solidarietà creata per dare supporto prevalentemente a famiglie disagiate e bambini anziani in difficoltà ai volontari che ne fanno parte è stato chiesto di ospitare per una notte circa la metà degli oltre 650 migranti sbarcati a Reggio Calabria sono passate più di 48 ore e la struttura dove sono ospitati non può garantire neanche i servizi igienici minimi oggi sono stati prelevati circa 80 soggetti tra donne e minori per ricevere altrove le cure necessarie ma si tratta oramai quasi di un'emergenza la nostra struttura in pratica fa attività ludiche per cercare di far venire avanti la comunità di Salice il comune di Reggio quello di Campo Calabro la nostra struttura non è adeguata per mantenere gli immigrati all'interno anche perché ribadisco il concetto che la tenda dove sono adesso ospitati gli immigrati vengono fatte attività di puro divertimento per i bambini quindi anche il parco adesso è nelle condizioni critiche genico e sanitarie che non sono alla norma per ospitare nuovamente i bambini spero che le autorità competenti si rendano conto della GAF che hanno fatto a mandare qui gli immigranti noi li abbiamo accolti per un senso di umanità 48 ore che sono qui anzi una parte di loro sono già partiti però noi ci auguriamo e speriamo che questo sia l'unico episodio di questa situazione perché la nostra struttura non è nelle facoltà di poter ospitare questi migranti urgono provvedimenti seri per tutta la regione perché nei prossimi mesi gli sbarchi in Calabria dovrebbero aumentare notevolmente dall'inizio dell'anno tra l'altro su oltre 10.000 persone soccorse circa 1.500 migranti sono arrivati nei porti calabresi di Reggio Corigliano e Palmi ed ora accendiamo i riflettori sugli incidenti stradali sono numeri impressionanti quelli che riguardano i decessi che si consumano sulle strade italiane nell'ultima settimana le tragedie che si sono consumate a Bivone e Cosenza e poi la sentenza che ha condannato a soli due anni e quattro mesi il giovane che travolse il bambino ucciso a Stelia Marina Sì, pronto Amore mio puoi parlare Ti parla? Vieni qui vieni subito Pronto Un incidente stradale su due è provocato dalla distrazione ricordalo Nell'ultimo anno sulle strade italiane sono morte 3.385 persone un numero impressionante è richiamato anche dal claim degli spot ricordalo il mancato rispetto delle norme l'alcol la distrazione sono le principali cause degli incidenti stradali gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane dove si sono verificati 4,63 decessi ogni 100 incidenti l'indice di mortalità raggiunge il valore massimo tra le 3 e le 6 del mattino in media 5 decessi ogni 100 incidenti a fronte di una media giornaliera pari a 1,87 la domenica è il giorno della settimana in cui si registra il livello più alto di sinistri le statistiche rilevano poi che la situazione è ancora più grave per gli under 30 sulle strade italiane hanno perso la vita quasi 800 giovani sotto i 30 anni un dramma che in Calabria non conosce limiti solo la settimana scorsa due incidenti mortali si sono verificati nella nostra regione a Bivona un ragazzo di soli 17 anni residente a Pizzo è finito fuoristrada per causa ancora in fase di accertamento perdendo la vita pochi giorni dopo a Cosenza un uomo di 35 anni è deceduto a seguito delle ferite riportate l'auto sulla quale viaggiava è sbandata ha sfondato un guardarele ed è finito in una scarpata di 50 metri come dimenticare il bambino di Selia Marina 12 anni morto sul colpo perché travolto da un SUV guidato senza patente da un cittadino rumeno recentemente condannato alla pena di due anni e quattro mesi ed è una notizia che arriva da Crotone è stata dichiarata inammissibile dai giudici del Tribunale Civile la richiesta di concordato preventivo avanzata dalla Sant'Anna Spa la società che gestisce l'omonimo scala aeroportuale il decreto è stato depositato ieri pomeriggio insieme alla sentenza che dichiara il fallimento della società di gestione in accoglimento della richiesta che era stata avanzata nelle precedenti udienze dall'ufficio di procura ed ora vediamo insieme le altre notizie di cronaca in 120 secondi beni per un valore di 800 mila euro sono stati confiscati dal GICO della Guardia di Finanza Pietro Salvatore Mollo esponente della locale d'Indrangheta di Corigliano suicidatosi in carcere nel 2010 all'età di 41 anni la confisca è stata fatta su richiesta della DDA di Catanzaro l'uomo detenuto in regime 41 bis era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Santa Tecla il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Cosenza ha rinviato a giudizio quattro persone e ne ha prosciolte due per la morte di Cesare Ruffolo deceduto nel luglio del 2013 dopo una trasfusione di sangue con l'accuso di omicidio colposo abuso e lesioni sono stati rinviati a giudizio l'ex direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza Paolo Maria Gangemi il direttore del centro trasfusionale Marcello Bossio il direttore medico del presidio unico dell'annunziata Osvaldo Perfetti e il medico dell'ospedale di San Giovanni Luigi Rizzuto il processo inizierà l'1 ottobre prossimo residui di lavorazione del marmo scaricati illegalmente in un fosso vicino all'affluente del torrente Timpa Grande sono stati scoperti a Cotronei dal corpo forestale dello Stato che ha denunciato il titolare di un marmificio gli agenti hanno localizzato lo stabilimento seguendo i residui razzione del marmo sparsi in prossimità dell'alveo dai controlli sono emerse irregolarità nella tenuta del formulario dei rifiuti elevata pertanto una sanzione pari a oltre 2000 euro un operaio Giovanni Zucco 41 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di San Calogero l'uomo era alla guida di un trattore stava rientrando a casa quando per causa in corso d'accertamento il mezzo si è ribaltato Zucco è stato soccorso e portato nell'ospedale di Vibo Valencia dove i sanitari gli hanno diagnosticato un trauma cranico riservandosi la prognosi sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto passiamo alla regione domani la commissione presieduta da Giuseppe Aieta tornerà a riunirsi per il voto finale al bilancio di previsione il documento già la prossima settimana probabilmente approderà nell'aula di Palazzo Campanella da Reggio Calabria Antonella Chirico la seconda commissione consigliare bilancio programmazione economica e attività produttive affari comunitari e relazioni con l'estero presieduta dalla consigliere Giuseppe Aieta ha approvato a maggioranza il DPFR 2015-2017 della regione dopo aver completato in queste ultime ore le audizioni con il partenariato sociale la commissione tornerà a riunirsi domani per l'esame degli emendamenti ed il voto finale al bilancio di previsione 2015 quest'ultimo si aggira attorno ai 7 miliardi di euro in questa cifra ci sono le spese per la sanità che ammontano a 3.302 milioni di euro 1.171 milioni di euro sono risorse POR e POC 2007-2013 573 milioni di euro sono destinati al Fondo Sviluppo e Coesione e poi ci sono le risorse destinate alle spese cosiddette libere ai fondi parenti e 147 milioni destinati agli accantonamenti il presidente della seconda commissione Aieta ha sottolineato che l'ente ha una limitata disponibilità di risorse libere da vincoli e che questa è una manovra imposta per mantenere il bilancio della regione Calabria in equilibrio e garantire servizi e salari a migliaia di calabresi razionalizzare la spesa è la parola d'ordine e come ha affermato l'assessore al bilancio Vincenzo Ciconte la regione ha individuato il termine del 31 luglio 2015 per la liquidazione delle società dirette e indirette in cui la regione detiene la maggioranza qualificata Ed ora parliamo delle elezioni amministrative torniamo a Vibo Valencia ormai ufficiale con la ratifica dei leader regionali e provinciali l'intesa tra il candidato al sindaco del polo civico Elio Costa e Forza Italia che rinuncia al simbolo e alla candidatura degli assessori comunali uscenti Tonino Fortuna settimane intense di trattative tensioni e qualche polemica sui giornali prima di arrivare all'accordo che costituiva una sorta di passaggio obbligato tra Forza Italia e Delio Costa in vista delle elezioni comunali di Vibo Valencia il patto è stato siglato nella serata di ieri e si snocciola in quattro punti gli azzurri ribadiscono il proprio disagio rispetto all'attuale amministrazione riconoscendo la validità del progetto di rinnovamento ispirato ai valori di una cultura riformista del movimento civico Vibo Valencia prima di tutto ma soprattutto confermano di rinunciare al simbolo ottenendo almeno a parole piena autonomia nella composizione della lista nessun riferimento specifico nel documento partorito nella serata di ieri agli assessori uscenti di Palazzo Luigi Razza ma è sotto gli occhi di tutti che un'eventuale candidatura degli esponenti dell'esecutivo non sia contemplata basti interpretare il passaggio in cui la completa autonomia nella composizione della lista viene subordinata al rispetto dell'innovazione oltre che dei requisiti di moralità pubblica e all'assenza di qualsiasi elemento pregiudiziale della condotta dei singoli un concetto espresso in politichese ma ben compreso dai diretti interessati ormai verso altri lidi dopo Antonio Fusca infatti anche Antonio Schiavello avrebbe sottoscritto nelle ultime ore la propria candidatura per la lista messa a punto da Vincenzo Pasqua il centrodestra formato civico ad eccezione di Fratelli d'Italia si ricompatta però intorno alla figura dell'ex magistrato Elio Costa un centrodestra che ritrova la propria unità nella discontinuità con quell'amministrazione uscente di cui ha votato per un lustro salvorare eccezioni pratiche e scelte politico-amministrative cruciali per il futuro della città da Vibo Valencia a Lamezia parliamo ancora di elezioni amministrative sono ore concitate a destra dove Fratelli d'Italia si smarca dal candidato a sindaco di Alleanza Popolare Armando Chirumbolo che sarà appoggiato invece da Fiamma Tricolore domani il candidato di Forza Italia Paolo Mascaro presenterà invece la coalizione a suo sostegno sentiamo Tiziana Bagnato Fratelli d'Italia toglie l'appoggio al candidato a sindaco Armando Chirumbolo se il centrosinistra sta riuscendo ora a trovare la quadratura del cerchio e individuare un assetto per la campagna elettorale il centrodestra prima solido e inscalfibile inizia ora a perdere pezzi secondo il partito alcuni avvenimenti recenti non permetterebbero più un'alleanza con l'ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale venuti meno determinati presupposti che erano alla base della nostra scelta spiega il partito della Meloni crediamo che non esistano palesemente le condizioni per continuare un percorso comune riteniamo che in questo momento la città abbia la necessità di eleggere un amministratore capace e affidabile per permettere un'inversione di rotta rispetto agli ultimi sciagurati dieci anni di gestione ora Fratelli d'Italia individuerà un nuovo concorrente con cui costruire i termini di un'alleanza Chirumbolo candidato con alleanza popolare mantiene saldo invece l'appoggio di Forza Nuova che gli ribadisce il suo sostegno e lancia un monito affinché venga mantenuta alta l'attenzione sui temi concreti e programmi accanto a Chirumbolo anche Fiamma Tricolore intanto Paolo Mascaro espressione di Forza Italia Udc e diversi altri partiti presenterà domani tutta la cordata che lo sostiene al Teatro Politeama Parliamo di scuola domani a Catanzaro l'arrivo del sottosegretario all'istruzione Davide Faraone che sarà in visita istituzionale un'agenda ricca che lo condurrà a scoprire eccellenze e criticità del sistema universitario e scolastico calabrese sentiamo il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone domani sarà in visita istituzionale a Catanzaro un ricco programma che consentirà al membro del governo Renzi di prendere cognizione diretta dei problemi che vivono l'università e le scuole calabresi i dettagli della visita sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa tenuta negli uffici della provincia di Catanzaro sarà una visita prettamente istituzionale incontrerà la mattina alle dieci e mezzo i rettori dell'università calabresi al campus alle undici e mezza sarà qui da noi assieme al dirigente Boucher visiteremo due delle più belle scuole di Catanzaro tutte belle le scuole di Catanzaro ma visiteremo due più vicini qui anche per una questione di tempi visiteremo il convitto nazionale Gallupi e poi l'industriale sono due istituti che hanno usufruito dei fondi Scuola Bella e Faraone li visiterà e saluterà alunni e corpi docenti poi a mezzogiorno faremo una iniziativa molto significativa avremo con noi anche il governatore Oliverio e incontreremo tutti i dirigenti scolastici della regione quindi circa 300 quindi parleremo di scuola e faremo il punto con i dirigenti scolastici della Calabria alle due ci sarà una conferenza stampa con Faraone Oliverio Magorno ed io assieme a Busce e assieme a tanti altri diciamo protagonisti della vita politica calabrese ed ora in breve altre notizie appuntamenti si intitola scatti di valore sguardi sul mondo del volontariato il concorso fotografico che il centro servizi per il volontariato dei due mari è organizzato per gli studenti delle superiori dell'intera provincia regina i ragazzi avranno tempo fino al 5 maggio per rappresentare in una foto i valori che ispirano e motivano l'agire di chi fa volontariato l'iniziativa si inserisce in un progetto giunto ormai alla sua quinta edizione che coinvolge nuovi istituti scolastici e 40 associazioni del territorio Feder Contribuenti ha ora un suo ambasciatore in Brasile si tratta di Giuseppe Arnò avvocato di Locri residente a Rio de Janeiro dove è presidente delle tribunale arbitrale internazionale Arnò è portavoce della cultura italiana nel Brasile il nostro impegno commenta il presidente della Feder Contribuenti Paccaniella non è mai cambiato e il prestigioso ingresso dell'avvocato Arnò nella nostra associazione lo dimostra lavoriamo ed operiamo per assemblare le forze sane d'Italia serriamo i ranghi per ricompattare quelle risorse e quelle figure che potranno dare una definitiva svolta alla nostra nazione capovolgendo l'attuale sistema politico-finanziario e economico si intitola dal mio punto di vista tra crisi e raccomandazioni e fa il punto sull'Italia al tempo delle raccomandazioni libro di Domenico Morelli edito da Falco Editore che verrà presentato sabato 18 aprile nel Palazzo San Bernardino di Rossano dopo i saluti dell'editore Michele Falco interverranno l'assessore alla cultura del comune di Rossano Sella Pizzuti il presidente dell'ordine dei commercialisti di Rossano Carlo Plastina e il GIP del Tribunale di Rossano Letizia Binigno a moderare sarà il giornalista Matteo Lauria la clinica Romolo Hospital di Rocca di Neto è stata riconosciuta a nodo territoriale della rete oncologica regionale secondo il decreto regionale appena varato dal nuovo commissario d'acta scura la clinica è stata selezionata per la qualità e i volumi di attività e perché unica struttura privata ad operare su tumori della prostata e della vescica è tutto ora lo sport a cura di Alessio Bonpasso grazie per averci seguito vi auguro un buon pomeriggio visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia Grazie a tutti Grazie.